Ciao a tutti, il 26-27 maggio ci vediamo a Napoli all'ex OPG di Soppaz per discutere insieme di come andare avanti con Potere al Popolo. Ci saranno tavoli tematici su ambiente, salute, lavoro, Unione Europea, questioni legate alle migrazioni, mutualismo, ma soprattutto ci sarà l'occasione di discutere e di decidere assieme quali modelli organizzativi utilizzare e come proseguire con questo progetto e con questo percorso, dal basso e in maniera collettiva. Grazie per la visione!